Benvenuti in Comicasa, come possiamo aiutarla? Vorrei comprare casa! Abbiamo proprio la casa giusta per lei! Mi piace! Da contro! Bene, prepariamo il contratto! CD e documenti! Oh oh oh! Come cosa? I migliori da l'aeroponio in giù! Come i casi immobiliari, da sempre al servizio dei clienti, anche quelli che esibili.